Per la serie Menti una sera a casa con il Krunel, un saluto da Matteo Rancarioni, siamo qui a fare questa cosa pietosissima, però Gianfranco ha insistito così tanto, voleva che suonassi il pianoforte, il problema è che io il pianoforte non lo suono, come anche avete potuto sentire, ci butto solo sulle mani, gli pianisti si staranno magnando fino ai gomiti, abbiate pietà, lo strumento già da sé è scordatissimo, oltretutto devo farlo mettere a posto. Comunque, bando alle ciance, siamo qui un po' per salutarvi, per presentarvi questo disco nuovo che è New Life, una nuova vita per dei brani intramontabili, ma una nuova vita anche per me, come cantante, come Krunel e anche come autore questa volta. Il disco è stato anticipato, l'avrete visto dal video che potete vedere su YouTube, c'è chi l'ha visto anche in televisione, di Copacabana, che sta girando tantissimo in radio, sta andando molto bene, specialmente grazie a voi. Niente, che dire, io non sono un amante di quelle cose che adesso mi metto a cantare dei brani del disco, il disco è così bello, è suonato da musicisti bravissimi, dai papicchi, guidati da Neri Oppoggi, appunto, in Alte Papic, che è l'arrangiatore di questo mio ultimo lavoro. Quindi, che cosa faccio? Rovinare il loro lavoro e non me la sento. Potrei suonarmi qualcosa, e non so, mi viene in mente... Ma, a parte che non c'è dove, lasciamo suonare qualche il Krunel, che suonano le canzoni da Krunel, andiamo più in profondità, cerchiamo qualcosa di diverso. Mi verrà in mente che potrei farvi il repertorio che faccio alle feste degli amici, quando trovo un pianoforte e tutto, e sono, come dire, un pochino alticcio, ho un quattro o cinque brani di un repertorio che mi piace tantissimo fare e che vorrei condividere con voi. Ne faccio uno dal testo bellissimo, un testo particolarmente impegnato. Ve lo faccio ascoltare, è una bellissima canzone d'amore, la riconoscerebbe subito. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ritorna in casa, sfidila la montana, devi lasciare quel male, devi smettere di bere, tra le braccia diאת. La tua ragazza è molto triste, è tanto freddo perché dalla sera alla mattina te ne stai con quella mamma, per ricordarsi anche gli accordi, Spidi Gonzales, pinto un acqua giù. Spidi, 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 Spidi Gonzales, non farla piangere mai più. Sperando che questa cosa non ponga fine alla mia carriera artistica, un saluto a Gianfranco Valenti e a Velvet Music.